nella sola giornata di oggi segnalati altri due casi di meningite oltre al bambino in toscana è morto un ragazzo di 18 anni nel napoletano mentre grave una donna peruviana di 34 in liguria ma si può ancora dire che non è epidemia non si tratta di un'epidemia il numero di casi è limitato ed è uguale rispetto a quello degli anni precedenti sono tutti i casi da meningococco si tratta in genere di ceppo b quello più diffuso diverso il caso della toscana dove è presente un ceppo c più aggressivo chi si deve assolutamente vaccinare soprattutto i bambini e gli adolescenti perché sono coloro i quali vengono più facilmente in contatto degli altri con altri bambini con altri adolescenti e quindi possono diffondere le goccioline della saliva starnuti tosse e quindi possono acquisire questa infezione con maggiore facilità gli infettivologi non ritengono che sia necessaria una vaccinazione a tappeto non essendoci i segni di un'emergenza sanitaria ma se un adulto volesse farla che tipo di vaccino dovrebbe assumere abbiamo vaccini contro il meningococco b che è quello maggiormente prevalente abbiamo vaccini contro il meningococco c che è quello che può dare forme più aggressive e più pericolose chi vuole si può vaccinare contro tutte e due i ceppi un vaccino non esclude l'altro anche se lo ripetiamo il numero dei casi tranne che in toscana non è in aumento ma in linea con gli anni passati